Gentili telespettatori, buona giornata. Le nuove frontiere per trovare evasori fiscali. Quanti saranno questi evasori fiscali? Il 70% degli autonomi sono evasori fiscali. Non è una mia opinione, sono i dati ufficiali. L'evasione per il 70% è degli autonomi. Evadono anche i dipendenti. Un 2,5% di evasione dei dipendenti c'è tramite le dichiarazioni annuali, le detrazioni. Poi ci sono le grandi aziende, ma il grosso dell'evasione fiscale arriva dagli autonomi, che adesso potrebbero essere fregati dal parcheggio, dal parcometro. Pensate un po'. Adesso vi racconterò. L'idea è di Alessandro Rapinese, il sindaco di Como. È un civico, quindi non è né di destra né di sinistra. Non ha niente a vedere neanche con i 5 stelle. Fa un'intervista a Tagadà sulla 7, qualche giorno addietro. Una maxi-operazione si tratterebbe di controllo fiscale tramite le targhe automobilistiche. Allora tu vai, cerchi un parcheggio, non lo trovi. A un certo punto dici, vabbè, devo andare a parcheggiarla lì dove c'è il parcheggio a pagamento. E vai a dove c'è il parcometro o il parchimetro, parchimetro, parchometro, chi lo sa. Devi mettere, digitare la targa della macchina. A quel punto il parchimetro o parchometro si collega all'istante con l'ufficio tributi del comune. In automatico fa una verifica al volo per vedere se sei a posto con il fisco. Se hai pagato tutto, tari, immo, quello che vuoi, il parchimetro restituisce un biglietto con la tariffa agevolata per via degli sconti ai residenti. Se no, ossia che ci sono delle irregolarità, se ti sei dimenticato una rata di una qualsiasi, non so, la spazzatura, qualsiasi cosa, sborsi il prezzo intero del ticket come se fossi un turista di passaggio o un pendolare che abita da un'altra parte. Ma non finisce qua. C'è una seconda ipotesi. Mentre ti dà anche il ticket, ti fa uscire anche praticamente un avviso di riscossione che non hai pagato. Ecco, pertanto oltre al tagliandino della sosta ti rifilano pure un avviso con su scritto Passa all'ufficio tributi perché abbiamo qualcosa da dirti. Ecco, così il parcheggio ti va di traverso. La misura però sembrerebbe irrealizzabile. Basterebbe usare la macchina di un altro, per esempio quella del nonno, perché hai avuto un guasto alla tua, però insomma tu devi andare in centro, vai a prendere la macchina del nonno perché poi il parchimetro gli devi mettere la targa e il parchimetro ti minaccia. Sei un evasore, sei la feccia della società. Ti scrive schifoso, vai a pagare, che ci rovini tutti. Vabbè, così devi poi chiedere anche al nonno se anche lui non ha qualche pendenza e anche lui venga minacciato da... Beh, poi c'è la questione della privacy, trattamento dei dati, poi che il parchimetro si colleghi direttamente col comune, questi parchimetri dovrebbero essere collegati con la rete internet, dovrebbero avere dentro una specie di computer che si collega alla banca dati centrale. Non è propriamente un qualcosa di così semplice. Diciamo che se tu non hai pagato qualcosa, lo sai, se il parchimetro te lo ricorda con un tagliando, ok, poi non hai la sosta agevolata, al posto che pagare un euro e mezzo paghi un euro e venti, quei 30 centesimi che paghi in più probabilmente non ne vale il costo di un parchimetro intelligente che comunica con le banche dati del comune. Insomma, diciamo che ci sono altre idee molto più efficaci, per esempio, sapete che Renzi aveva introdotto il fatto che il canone della televisione lo paghi con la bolletta della luce, è così, se tu non paghi non ti tagliano la luce, ecco, basta mettere nella bolletta della luce la multa che non hai pagato, te la debitano direttamente nella bolletta della luce, devi pagare 30 euro di luce, non hai pagato un divieto di sosta 64 euro, ecco, ti arriva 94 euro di luce dove dentro c'è la bolletta, e se non la paghi ti tagliano la luce, ecco. Diciamo che più che metterti l'avviso nel parchimetro che sei un cattivone, e poi c'è l'evasore che non va mai in centro, e poi chiaramente quelli che hanno problemi col fisco, a quel punto non vanno più in centro nei parcheggi a pagamento, ma continuano a girare fin quando trovano un posto libero, no? Ecco, pertanto l'idea è simpatica, però certo è un'idea che puoi andare a raccontare in televisione, fai la tua propaganda, lui è anche sindaco, non demorde, dice, è uno forte questo sindaco, nel senso che prende delle decisioni abbastanza forti per fare rispettare le leggi e quant'altro, però quella del parchimetro che all'istante ti stampa lo scontrino con scritto passa in comune che dobbiamo dirti qualcosina, no? Vieni a giocare con noi? Per sempre, per sempre, per sempre, no? Nel parchimetro ti fa vedere le gemelline di Shining, che ti dicono, vieni a pagare in comune? Per sempre, per sempre, ecco, ti stampa anche la foto delle gemelline di Shining, non di Shining, che è un misto tra Shining e Shrine, no? Le gemelline di Shining, mi è venuta così, così, proprio, e insomma, va bene, vi lascio con il parchimetro che vi minaccia, a Como, attenzione, a Como, parcheggiare perché vi esce lo scontrino con scritto vieni a giocare con noi? Per sempre, per sempre, per sempre, arrivederci a tutti e grazie.